Oggi sto leggendo un altro classico. Prima ho realizzato Summertime e Blue Moon. Adesso vado a leggere Over the Rainbow. È un classico della musica per sax. È semplicemente una lettura su una base che ho trovato gratuita in rete. E ringrazio. Ammati Grazie a tutti. 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 Giovanni Vianini, Saxtonore, Milano, Italia, autunno 2023. È un classico, bellissimo, Giovanni Vianini, Saxtonore.